Quasi tre mesi dall'evento, in mezzo a tante polemiche e la rabbia degli orchestrali, quei soldi dovevano essere pagati con lo sbigliettamento che aveva fruttato quasi 20.000 euro e con i fondi messi a disposizione dagli sponsor, altri 6.000, c'erano anche i mandati, ma non i soldi. Così per arrivare ai bonifici si è dovuti attendere il via libera dalla regione per utilizzare i dodicesimi del bilancio ordinario, una firma, quella del direttore generale dell'assessorato competente, che è arrivata nelle ultime ore, una vicenda che sta dentro una crisi economica e gestionale diventata cronica, lo sfogo legittimo degli orchestrali, specie di quelli che fanno solo e soltanto questo lavoro, è quasi quotidiano su Facebook. I soldi del concerto di Capodanno erano diventati un miraggio, quasi come la stabilizzazione, eppure quel concerto di Capodanno, chiesto a gran voce dalla città, era stato un successo, 790 spettatori, un incasso che ammontava a quasi 19.000 euro, in più ci sono i soldi degli sponsor privati che andavano a coprire le eventuali perdite, una parte dell'incasso e dei soldi degli sponsor, tolte le spese alla Croce Rossa italiana, a dirigere l'orchestra del Vittorio, era stato il maestro Marco Alibrando, gli orchestrali vantano però altri due pagamenti, le prestazioni svolte per la Carmen e per il concerto sinfonico, e alle porte c'è un altro concerto, la situazione del teatro Vittorio Emanuele, se i politici messinesi non si daranno una mossa e non faranno valere le ragioni di una città scartata, è gravissima, a giugno lo spettro della chiusura irreale, il politico che andrà ad occupare la poltrona di primo cittadino dovrà far valere le ragioni di Messina, la progressiva diminuzione di fondi regionali è stata una iattura, si è passati dai 7 milioni e 328 mila euro del 2010 ai 2 milioni e 904 mila del 2018, vale a dire 4 milioni e 424 mila euro in meno nel giro di otto anni, per questo la stessa amministrazione uscente parla di evidente iniquità nel raffronto tra il contributo ordinario regionale destinato ad ogni abitante della nostra città, rispetto a quello concesso a Catania e a Palermo, 14 euro a Messina, 21 a Catania, 24 a Palermo, la cultura di un messinese vale 10 euro in meno di quella di un palermitano e 7 euro in meno di quella di un catanese.